Aveva dato le sue dimissioni dalla carica di vice sindaco e poi queste dimissioni sono state ritirate. C'è un po' un mistero, ma cosa è successo? Nulla di trascendentale, nel senso che nell'ambito di una normale e vivace dialettica politica si era creata questa circostanza. Chiaramente rientrata in quanto c'è stato subito un chiarimento all'interno del gruppo di maggioranza e quindi siamo ancora qui in carica a portare avanti il discorso amministrativo. Un po' si è ingigantita questa vicenda, però oggi è giusto ridargli una dimensione un attimino più ridimensionata. Ma questi dissidi cosa riguardavano? L'interno della maggioranza, piani operativi? Normali dialettiche che nell'ambito di un'amministrazione e di un gruppo di maggioranza caratterizzata da esponenti che nel fare la politica cercano di interpretarla con grande passione può succedere. È successo, però è stato superato.